SOS Sicurezza all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Un tema che torna all'attenzione dopo l'ultima aggressione di questi giorni ai danni di una guardia giurata in servizio all'esterno del pronto soccorso. Un copione già visto nel tempo, un problema mai risolto. Tutto accade mentre la Direzione Generale è al lavoro per la riorganizzazione del pronto soccorso che, come dichiarato dal Direttore Sanitario Aziendale Gaetano Donofrio alle telecamere di TV City, dovrebbe riaprire il prossimo 16 giugno. Una problematica denunciata a gran voce dalle organizzazioni sindacali, in particolare dalla CISL Funzione Pubblica, anche a seguito di diversi episodi verificatisi negli ospedali della città di Napoli. Intanto, da voci di corridoio, sembrerebbe che si voglia organizzare il lavoro del pronto soccorso a Torre del Greco con un medico, due infermieri, un operatore socio-sanitario a turno per le 24 ore. Un organico chiaramente insufficiente per gestire il servizio e inevitabilmente esposto in termini di sicurezza. Se si pensa di riaprire in queste condizioni, pur di mantenere gli impegni presi, è sicuramente inaccettabile. È la voce degli operatori. Senza contare che in pronto soccorso c'è un defibrillatore obsoleto, le barelle sono rotte e di notte anestesisti solo con la reperibilità. Dettagli basilari che però sembrerebbe non siano stati al centro della discussione nel corso dell'incontro di ieri dei sindaci di Torre del Greco ed Ercolano con la direzione generale. Secondo infatti quanto diffuso alla stampa dall'amministrazione comunale di Ercolano, l'azienda sanitaria ha fornito risposte soddisfacenti in merito al futuro dell'ospedale Maresca. Il pronto soccorso sarà riaperto il prossimo 16 giugno e contestualmente sono già partite le procedure per i lavori di adeguamento del terzo e quarto piano della struttura, che potrà contare su 130 posti letto, la creazione di un reparto di subintensiva e un pronto soccorso funzionante. Il sindaco Ciro Buonaiuto ha espresso la sua soddisfazione per l'esito dell'incontro. Nessuna dichiarazione al momento arriva invece dall'amministrazione comunale di Torre del Greco. In ogni caso si tratta di parole che restano in attesa di fatti concreti. L'associazione Promaresca ha già annunciato ai microfoni di TV City che continuerà a vigilare sull'operato dell'ASL sia rispetto all'organizzazione del pronto soccorso che sul futuro della struttura sanitaria.